Ma questa è una campagna elettorale, devo dire, complicata proprio perché c'è molto malessere in giro, ma il nostro impegno deve essere soprattutto quello di guardare con grande attenzione ai giovani, ai disoccupati e direi soprattutto agli ultra quarantenni e cinquantenni che perdono il lavoro. Questo è veramente una piaga e un dramma sociale. Io ricevendo sempre tantissime persone vedo con grande amarezza tantissime persone che hanno perso il lavoro e hanno una famiglia a carico, i figli, possibilmente mutui da pagare. Questo è un problema che va affrontato con urgenza perché c'è gente nella disperazione ed è giusto che il Governo nazionale ma anche i parlamentari regionali ci facciamo carico di questa situazione. Io ho anche detto che sono disponibile a presentare un disegno di legge voto perché la Regione certamente non ha le risorse necessarie per poter far fronte a questo problema, ma chiedere con forza al Governo nazionale di attenzionare proprio questa questione per dare la possibilità a coloro i quali hanno perso il lavoro e non hanno né una mobilità, né una cassa integrazione, né un sostegno al reddito, di pensare di sostenere queste persone fino al raggiungimento di un inserimento lavorativo. Questo mi sembra veramente una priorità e noi ci faremo carico assieme alle tante altre questioni che riguardano la Sicilia e il nostro territorio.